Mi vuole che i capelli crescono e che libera da vita poi. Non te lo faccio. Sì, l'accompagno di tutto, facciamo che ci sediamo. E' una busta così me li conserva. Come una busta? E' una prima donazione e non me li ho andati. Sanno. Ti ho fatto toccare l'ultima volta. Ma questo nome è un'epoca psicologica. Si siede con calma e lascia finire questo taglio che sembra l'acqua resina. Non c'è una bambina di 10 anni. No, regà, perché? No, 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 no. Non posso fare niente, sono incontentiva. Mentre in cortile si consuma il dramma... ... Grazie a tutti